I dati di Real World Evidence sono diventati sempre più importanti per stabilire il vero valore di un farmaco, ma come raccoglierli, come elaborarli, come conservarli? Sono stati questi alcuni dei temi di cui si è parlato qui a Mogliano Veneto per la settima edizione del seminario e noi facciamo il punto proprio su questo argomento col professor Gianluca Trifirò. Professor Trifirò innanzitutto ci spiega qual è la relazione tra i dati di Real World Evidence e i cosiddetti MEA, i Managed Early Agreement? Storicamente questa relazione viene rappresentata dai registri di monitoraggio di AIFA che nascono come strumento di approfittura prescrittiva, ma poi anche successivamente come strumento per la valutazione di questi Managed Enti Agreement, quindi con una raccolta di dati prospettica che viene coordinata da AIFA, in cui vengono raccolte una serie di informazioni cliniche che sono essenziali appunto per la valutazione dei MEA. Il punto di domanda è se queste sorgenti di informazione sono sufficienti o possono essere integrate con altre sorgenti di dati di Real World per la rivalutazione dei farmaci una volta che sono messi in commercio, soprattutto quelli ad alto costo e con basso livello di evidenza alla commercializzazione. Senta, lei a questo proposito ha toccato diversi punti. Il primo che le ha spiegato è la necessità di linee guida dettate dall'AIFA sull'utilizzo di questi dati di Real World. Cosa dovrebbero fare le linee guida? Ecco, intanto permettiamo che sia FDA che EMA che il NICE, insomma tante agenzie regolatorie del farmaco hanno già sviluppato le linee guida in generale su quali fonti di dati utilizzare per generare quale tipo di evidenza a supporto di quale aspetto regolatorio e clinico legato delle terapie farmacologiche. L'Italia è un paese ricco di dati e di expertise, certamente avere delle linee guida di AIFA che possa dare indicazioni appunto su questi aspetti e su cosa utilizzare per far cosa sarebbe molto utile per la comunità scientifica ma anche per tutti gli stakeholders, per le aziende farmaceutiche che quindi in questo modo potrebbero promuovere l'utilizzo, la generazione di Real World Evidence a supporto delle decisioni regolatorie. Ecco, pure è toccato un tema tecnologico, ovvero la necessità di un'infrastruttura per contenere questi dati, ma non c'è già questa infrastruttura? Allora abbiamo diverse tipologie di fonti di dati, ho detto prima il registro di monitoraggio che nasce esplicitamente per farmaci comunque all'alto costo, è uno strumento che è molto dispendioso perché c'è una raccolta prospettica, però al di là di questa fonte di dati ce ne sono tante altre, penso soprattutto alle banche di arte amministrative che sono generate a fine di rimborsare tutte le ASA e le regioni, in linea con quanto succede negli Stati Uniti con il progetto Sentinel e in EMA con il progetto Darwin EU, potrebbe essere benefico per AIFA, per la valutazione di EMEA ma anche per ben altri aspetti regolatori, la istituzionalizzazione di un'infrastruttura dati basata su dati amministrativi ma integrati anche con i registi e con altre fonti dati, ovviamente al netto del fatto che bisogna smarcare il problema della data protection, per cui c'è in atto appunto un confronto tra le varie istituzioni e il garante per la protezione dei dati per capire come poter interpretare la normativa in maniera più funzionale le esigenze dell'AIFA e delle altre istituzioni per la generazione di real world evidence. Ecco, forse quest'ultimo aspetto, quello della privacy vale di più per i registri, almeno da quello che si è detto oggi e in generale sui registri cosa c'è ancora da migliorare? Perché sono un po' un fiore all'occhiello della ricerca italiana. Ma ovviamente si sta discutendo anche oggi e i registri sono uno strumento straordinario, ciò non toglie che non possano appunto essere migliorati, per esempio esplorando la possibilità di vincarli in altre sorgenti dati che possono arricchire nel dettaglio clinico ma anche nella lunga unità dell'informazione e nella possibilità di valutarlo anche più a lungo termine, quindi sicuramente ci sono margini di miglioramento ma soprattutto mettere a sistema a tutte le sorgenti dati di real world cui noi abbiamo accesso in Italia, sarebbe una straordinaria innovazione per quanto riguarda il nostro paese. C'è un contenitore unico, lo immaginiamo così? Questo sarebbe l'obiettivo massimo, il sogno soprattutto per tutta la nostra comunità di farmaco epidemiologi, ma credo che si andrà in quella direzione anche la luce dell'European e il data space e di un'altra serie di contesti che si stanno ben definendo a livello nazionale e internazionale. Professore, non è la prima volta che lei viene qui a Mogliano, quindi ci può dare un po' un commento anche alla luce delle esperienze passate. Cos'è questo meeting per lei? Io credo che sia una straordinaria iniziativa perché ci obbliga a ritagliare del tempo per brainstorming, per un confronto e incontro con i vari stakeholders su tematiche di rilevo in campo ovviamente regolatorio del farmaco, quindi una grande opportunità per tutti noi di scambio di informazioni e apprendimento di anche tematiche che sono in questo momento particolarmente attenzionate.